Buon pomeriggio dal gruppo degli artisti ilpini, ci troviamo a Mirabella e Clano per la prezessionale tirata del carro, ora c'è la benedizione del barroco e dopo assisteremo appunto alla tirata. Guardate la gente numerosissima a corsa a tirare le varie corde, le varie funi, questa invece è una parte del carro in grano, sapendemente elaborato dalle mani della famiglia Faugno e non solo. Grazie a tutti. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente per motivi logistici non sono potuti venire. Ci scusiamo se riprendiamo tutto da dietro ma la gente è talmente tanta che ne ho trovato solo questa postazione ma cercheremo nelle tappe successive di poter guardare ancora meglio il carro. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente non sono potuti venire. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente non sono potuti venire. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente non sono potuti venire. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente non sono potuti venire. Per il mondo, anche i mirabellani che ovviamente non si state vòn di venire, riprendiam le v Yarenerzioni guys, non si dire il mondo.